Manca poco al Natale con i prossimi giorni che saranno caratterizzati dalla rincorsa agli ultimi regali. È in quest'ottica che la Polizia di Stato, attraverso un video pubblicato sui social, ha richiamato l'attenzione dei consumatori alle truffe online sempre più frequenti. Sul web, improvvisamente, compaiono falsi siti di vendita di alberi di Natale, di regali, di pacchetti per vacanze da sonno a prezzi scontatissimi. La Polizia Postale delle Comunicazioni raccomanda massima prudenza. In particolare, la Polizia Postale ha evidenziato i raggiri spesso legati alle prenotazioni di pacchetti vacanze, consigliando massima prudenza nella modalità e nella scelta del prodotto da acquistare. La prima regola è di fidare sempre di offerte eccessivamente vantaggiose. È preferibile acquistare da siti ufficiali o comunque già conosciuti, utilizzando in ogni caso una carta prepagata. Nel caso in cui si decida di acquistare da un sito per la prima volta, si consiglia di controllare, attraverso un comune motore di ricerca, le recensioni pubblicate da altri utenti e di verificare il feedback di gradimento del venditore. Infine, prima di procedere all'acquisto del prodotto scelto, è il caso di accertarsi che sul sito sia presente la politica di reso e un numero di servizio clienti attivo. Bastano poche regole da seguire, quindi per evitare spiacevoli delusioni e fare in modo che le uniche sorprese siano quelle sotto l'albero.